Benvenuti signore e signori al Magnificent Hotel Qui da voi sarete trattati alla pari di principi e re Qui da voi potete trovare un servizio di gran qualità E possiamo accontentare i clienti di tutta l'età O biciclette, passegini, o per le mamme ed i bambini Sale da te e fubatori, per le dame di signori Ascensori e montascale, se non potete camminare Abbiamo un solarium, la piscina, la sala biliardo, la sala riunioni Servizio in camera, lustra scarpe e pure una spiancia privata Benvenuti signore e signori al Magnificent Hotel Qui da voi sarete trattati alla pari di principi e re Poi nel nostro ristorante le cibarie più gustose E se non avete i denti, abbiamo zuppe favolose Per le vene varicose, massaggiatrici prodigiose Per la pelle raggrizzità, abbiamo creme color tical E se siete constipati, lasciatevi delicati Venite a provare il nostro centro benessere Il nostro staff è a vostra completa disposizione Benvenuti signore e signori al Magnificent Hotel Dove giuro sarete trattati alla pari di principi e re Oh yeah Grazie